un secondo per l'allestimento grazie, buonasera a tutti Ave Maria prena te ogni grazia su Signore cultue bella Signora bene itto tra tutti i femmini bene itto su frutto di esa terra tua e subillude mamma santa mamma de su Signore mamma santa prega pro nois pecadores prega pro nois e do tuis hominis Ave Maria Ave Maria grazie Maurizio Castaldi Veronica Pisa Grazie.